Il silenzio riempie le rovine di Amatrice. La frazione di Saletta, presidiata dalle forze dell'ordine, è un paese fantasma. Su 12 abitanti, le vittime sono state 22. Questa linea, quasi come una cicatrice, segna il passaggio della terremoto, lesionando questo edificio. In quest'altra casa, invece, è come se la sisma avesse affettato in due l'intera struttura. La prima parte si è sbriciolata, l'altra invece precaria, resta ancora in piedi. Tra le macerie e gli edifici sbriciolati dal gigante chiamato terremoto, oggi si rialza anche la speranza. Ad una famiglia di allevatori di Collalto ad Amatrice, con un anziano disabile di 92 anni, stanno donando un inizio di futuro che ha la forma di una casa. Valerio, cosa state facendo? Allora, noi dell'associazione Via del Saleollus abbiamo questo progetto di portare casette prefabbricate a famiglie bisognose. Adesso noi porteremo il modulo qui e, attraverso questi conoscenti che hanno una gru, trasporteremo il modulo da qua sotto a lì sopra. Valerio ha 34 anni e insegna matematica in una università di Londra. Con una cinquantina di giovani, tutti originari di Città Reale, subito dopo il sisma del 24 agosto, ha fondato un'associazione che ha per presidente una ragazza di 18 anni. Questa è una parte del modulo che consegniamo. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è un giorno importante? Sì, molto. Qui è tutto inagibile? Sì, è inagibile. Questa è la stalla? È la stalla, sì. C'erano gli animali, solo che adesso stanno fuori perché non, diciamo, dentro non possiamo entrare. Raccogliamo donazioni e ogni volta che raggiungiamo la cifra ai 10.000 euro noi compriamo un nuovo modulo e lo portiamo. Quanti ne avete consegnati fino adesso? Questo è il secondo e stiamo vicini alla consegna del terzo. Cambierà un po' la vostra vita? Sì, penso di sì, un po' più di tranquillità. Quando dal basso sono i più giovani a rialzare il domani di una terra in ginocchio.